Oh Signore, ammetto l'antino Si è svolta domenica, 18 settembre, all'Aula Consigliare del Comune di Termini Merese la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Nazionale di Poesia Imer che quest'anno è stata dedicata alla memoria del compositore e direttore d'orchestra termitano, il maestro Giuseppe Emolè. Nell'occasione sono stati insegnati delle onorificenze alle due realtà musicali termitano che ne hanno portato alto il nome, il coro polifonico e l'associazione amici della musica, entrambi intitolati a Giuseppe Emolè. Il coro polifonico è diretto ora dal maestro Tonino Tarnaco, si è esibito durante la serata. Alla serata hanno partecipato Katiusca Fabbo e Chiara Torturice e Mauro Bondi, inoltre anche Sascia Portale. Per la sezione archeologica hanno ricevuto l'encomio speciale Agata Villa, già dirigente del parco archeologico di Imera. E' stata istituita la targa Saveio Orlando con l'encomio speciale che è stato consegnato all'imprenditore di Caccamo Giuseppe Fregan. Targa della memoria, consegnata invece alla moglie del poeta toscano Veniero Scarcell, il premio della cultura 2016 a Rita Cedrina, coordinato la manifestazione Rita Elia. Targa della vita Grazie